In questo momento siamo alle perifrasi, per cui siamo al job act, per cui in my opinion is the same old soup, cioè nel senso è la stessa zuppa di sempre, tant'è che la CGL non ha proprio avuto un giudizio negativo su questo, quindi abbiamo detto in inglese quello che la CGL sul contratto unico da decenni dice in italiano. Sul resto dei cosiddetti diritti noi con grande chiarezza diciamo che se c'è da ritoccare per via patrimoniale il regime patrimoniale delle coppie per una tutela delle affettività che sia più solida dal punto di vista del regime civilistico noi siamo pronti a ragionarci, ma siamo alle perifrasi ancora, non abbiamo capito quale sarà la proposta, ma se ci propongono il matrimonio gay oppure se ci dicono che quella roba lì è l'avvio per poi arrivare a smontare la famiglia, il matrimonio gay, le adozioni gay, noi diciamo di no.